Ehi bambini, la mia amica è andata via, io sono ancora qua con voi riuscendo dal cavallo Deve arrivare tra poco mia mamma, quindi le metto la sedia e un'altra sedia per me Ok, ho arrivato! Giulie, sei a casa? Sì mamma! Eccomi, ciao bambini! Sono tornata! Ti ho comprato un fantastico telefonino, lo sai? Davvero un telefonino? Sì, è questo! Wow mamma, è un vero telefono! Sì, vuoi accenderlo? Sì, sì sono pronta! Wow, uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Sette, otto, nove! Scegliamo il cagnolino! Chiamiamolo! Che bello! Chiamiamo la pecora! Ho chiamato l'elefante! Mamma, ma questo telefono è divertentissimo! Ora posso chiamare le mie amiche! Allora, il primo è bambini e signietta! Secondo è gattino, leone, cagnolino, pulcino, rana, elefante, la paperella, la picorella, era un elefante! Che bello! Bambini, è divertentissimo questo telefono, vero? Bello, bello, bello! Bello, bello, bello! Mamma, ora ho pensato, e se prepariamo qualcosa da mangiare per noi due? Cosa mangiamo? Oh, cara mia! Vediamo un po'! Oh mamma, voglio vedere tante cose da mangiare! Posso scegliere io? Eh, sì, ma cosa ti andrebbe di buono? Non lo so, adesso chiamo mio amico l'elefante e le lo chiedo! Ora, io penso cosa preparare da mangiare per mia mamma, bambini! A voi cosa piace mangiare? Io ho tantissimi dolcini da farvi vedere! Guardate, ho un sacchetto pieno! Ora vi faccio vedere cosa c'è! E iniziamo dai miei preferiti! Wow, quante! Wow! Abbiamo tre muffin con la marmellata azzurra sopra e i cuoricini! Questo per te mamma! Aspetta che metto un tavolo! Dopo ci sono le torte con le frutte, due giganti gelati, cioccolatino rosa, una torta con le fragole, un biscotto dolce, dolce perché c'è scritto sì! Una torta al cioccolato con le fragole, due biscotti, uno al cioccolato e uno alla vaniglia, poi c'è il gele, un cono per il gelato, ma dov'è il gelato? Mettiamo questo! Oh, con il miele, poi c'è un cuorezzino buono buono, un biscotto, un pezzo di torta al cioccolato, io adoro la torta al cioccolato! Ancora torta al cioccolato, i muffin, muffin buono! Mickey Mouse biscottino con la vaniglia dentro, due biscotti con la cioccolata e le formine per fare buonissimi, buonissimi muffin! Lemon Bams, mmm buono! Un altro biscotto, però alla vaniglia, una torta che io ho già morso, mmm buonissimi, biscotto con la scritta LAF, gelato, i coni di gelato, buoni! Il biscotto con le fragole e crema di fragole dentro, un altro biscottino con un coriccino e un fiocco, biscotto a forma di cuore con cioccolato e fragola, biscotto a forma di orsa con orsa, un buonissimo rouletto al cioccolato, mmm! E tante altre torte bambini, vediamo, c'è la torta così, torta così, le torte così, un biscotto rosa, la torta con fragola, un'altra torta, un orsocchiotto mezzo morso, un gelato, un biscotto e un altro cuore di biscotto. Bambini, avete visto quante torte di biscotti abbiamo? Mmm buonissimi! È vero, ce l'abbiamo tante tante! Bambini, a voi piacciono le torte? Ho i biscotti, ho più le torte e i biscotti, mmm buone 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 buone! Divertitevi con noi nei prossimi episodi, a guardare cos'altro di buono ci prepariamo da mangiare! Ora mi piacciono i piacciono e iscrivetevi al canale! Ciao bambini! Ciao!